Bentornati alle slide della vostra professoressa di lettere. Nel nostro percorso di ripasso della letteratura italiana stiamo adesso affrontando il XVIII secolo, il Settecento, e nel video di oggi in particolare approfondiamo un genere letterario, quello del teatro, sia nel campo del melodramma, sia nella commedia con il suo grande esponente che è Carlo Goldoni. Infatti nel teatro, in sintonia con lo spirito moderatamente riformatore dell'Arcadia, nel Settecento trovò innanzitutto un nuovo impulso il genere del melodramma, nel quale, come abbiamo detto parlando anche del Seicento, il testo scritto ha finito col passare in secondo piano rispetto al valore della musica, alla bravura dei cantanti, alla spettacolarità delle scenografie. Tra i più noti scrittori di libretti di questo periodo si distinse Apostolo Zeno, direttore del Giornale dei letterati d'Italia del 1710, il quale per primo tentò una riforma del melodramma cercando di recuperare decoro e verosimiglianza. Dopo l'opera Gli inganni felici del 1695, compose testi per alcuni grandi musicisti, quali Alessandro e Domenico Scarlatti, Vivaldi, Handel. Fu anche direttore del Teatro di Corte di Vienna dal 1718 al 1728, anno in cui designò come suo successore Pietro Metastasio. Molti i suoi melodrammi sono ispirati alla mitologia e alla storia antica. E a questo punto dobbiamo vedere proprio Pietro Trapassi, grecizzato in Metastasio. Cossui infatti ebbe come protettore maestro Gravina e da lui fu avviato agli studi di letteratura e giurisprudenza. In seguito ebbe modo di approfondire anche la filosofia cartesiana alla scuola di Gregorio Caloprese. Per assicurarsi una solida posizione sociale, nel 1714 prese gli ordini minori, diventando abate. Dopo però il successo della cantata Gli Orti e Speridi del 1721, Metastasio abbandonò l'avvocatura e si dedicò esclusivamente al teatro. A Napoli, uno dei maggiori centri europei per la musica, rappresentò la sua prima opera, La Didone Abbandonata del 1723, che ebbe grandi riconoscimenti e gli procurò una discreta fame internazionale. Nel 1729 si recò a Vienna, dove, apprezzato da Maria Teresa e da Giuseppe II, rimase come poeta di corte fino alla morte, avvenuta nel 1782, vivendo il periodo più prolifico della sua vita, e in questo periodo che compose infatti opere come Demetrio, Olimpiade, Demofonte, Giuseppe Riconosciuto, La Chille in Sciro, Attilio Regolo e molti altri melodrammi che sono stati poi musicati dai maggiori compositori del momento, tra i quali lo stesso Mozart. Comunque, muovendosi nell'area dell'Arcadia, Metastasio fu seriamente animato dal desiderio di rinnovamento. E così le sue opere ripresero le tematiche classiche, attraverso le quali però egli riuscì a mediare tra le moderne esigenze di razionalità e di ordine e quello che era il gusto sentimentale di moda nelle classi colte tra i nobili. Così le caratteristiche principali dei suoi scritti sono la fluidità del verso e la pacata caratterizzazione di personaggi e storie. Certo, il conflitto che mette i protagonisti di fronte a scelte tormentate e che è alla base dell'intreccio viene risolto senza arrivare mai ai toni della tragedia, né a un vero approfondimento dei sentimenti. La trama infatti è spesso uniforme e in essa prendono corpo personaggi in equilibrio tra la tragedia incombente e la risoluzione ragionata. Il tutto presentato con uno stile chiaro e armonico che interpreta abilmente il gusto del tempo. Accanto a Metastasio si distinse Lorenzo da Ponte, che fu librettista di Mozart e raggiunse notevoli risultati grazie a testi più che curati. Tra questi possiamo ricordare le Nozze di Figaro del 1786, il Don Giovanni dell'87 e il Così in fan tutte del 1790. Quindi Lorenzo da Ponte sicuramente ha scritto alcune delle opere che sono rimaste poi fondamentali nella storia dell'opera lirica, insomma, nella storia della musica di tutti i tempi. Veniamo invece alla commedia. Abbiamo visto come nel 600 si era consolidata la commedia dell'arte, nella quale aveva intrecci semplificati, maschere fisse e una comicità facile, non sempre di buon gusto. Goldoni porterà invece una riforma nella commedia, sostituendo progressivamente i copioni ai canovacci e delineando caratteri e psicologie dei personaggi. Ma vediamolo più nel dettaglio. Carlo Goldoni nacque a Venezia nel 1707 da una famiglia borghese. Nel corso della sua carriera compose circa 250 commedie, traendo ispirazione dalla vita quotidiana, in particolare da quella veneziana, osservata con attenzione nelle sue caratteristiche umane e sociali. La passione per il teatro lo accompagnò fin da giovane. Laureato si in giurisprudenza a Padova nel 1731, ritornò a Venezia nel 34 con l'impresario teatrale Giuseppe Imer e assunse l'incarico di scrivere per il teatro San Samuele. In questi anni di apprendistato e di sperimentazione compose la prima commedia, il Momolo Cortesan, nel 1738. Si trattava ancora di una commedia a soggetto, ma la parte del protagonista era integralmente scritta. Qualche anno più tardi, con La donna di Garbo, siamo nel 1743, Goldoni invece produsse la prima commedia in cui scrisse tutte le parti e si rafforzò nell'idea di contrastare la moda teatrale del tempo, secondo la scuola di Molière. Nel 1745 al 48 fu a Pisa, dove esercitò la vocatura senza però abbandonare il teatro. Infatti risalgono a questi anni il servitore di due padroni e i due gemelli veneziani. Tra il 1748 e il 1752 lavorò al Teatro Sant'Angelo di Venezia, diretto da Girolamo Medebach, in questo periodo iniziò ad attuare la propria riforma teatrale, proponendo nel 1750 una commedia senza maschera, La Pamela. Successivamente, in risposta all'insuccesso registrato dall'erede fortunata del 1750, scrisse tra il 1750 e il 1751, 16 nuove commedie, tra le quali spiccano La famiglia dell'antiquario e La bottega del caffè. Lasciato il Sant'Angelo, passò al Teatro San Luca, diretto dall'impresario Vendramin, e nel 1753 compose La locandiera, considerata uno dei suoi capolavori. In questo periodo raggiunse comunque i migliori risultati nelle commedie in dialetto veneziano, tra cui Il campiello, I rusteghi, la tecnologia della villeggiatura, Siorto d'Aero, Brontolon e le Baruffe Chiozzotte. Dopo le polemiche con i letterati Pietro Chiari e Carlo Gozzi, però, che erano sostenitori invece del teatro disimpegnato e comico della tradizione e sostenitori dell'uso delle maschere per una più immediata fruizione dello spettacolo, Goldoni decise allora di trasferirsi a Parigi nel 1762 su invito della Commedia Italienne. Qui fu precettore di lingua italiana delle sorelle e della figlia di Luigi XVI. Nel 1784 scrisse gli Mémoires, le memorie della sua vita, pubblicate nel 1787 e dedicate al re Luigi XVI, e poi morirà in miseria a Parigi nel 1793. Ora, il punto cruciale intorno al quale ruotò la riforma teatrale di Goldoni fu la reintroduzione di un testo scritto che lasciasse poco all'inventiva dell'attore e il passaggio dalle maschere ai caratteri. Si trattava in altre parole di introdurre sulla scena personaggi veri, non stereotipati, animati da passioni e sentimenti, dotati di personalità e appunto di carattere. L'attore, senza maschera, appariva in tutta la sua umanità. Il viso e la mimica, insieme ai gesti e alla postura, contribuivano a rappresentare la complessità del suo animo. La scelta del dialetto si rese poi necessaria per ricercare l'atmosfera reale e vivace della società veneziana del tempo, in cui i valori della borghesia in ascesa, rappresentata dal personaggio di pantalone e mercante di buonsenso, si contrapponevano alla nobiltà in decadenza, senza nerbo e improduttiva. Da questa contrapposizione prende vita anche la dimensione etica e spirituale del teatro di Goldoni, che riuscì a stabilire un nuovo rapporto con il pubblico, conservando gli intrecci della commedia dell'arte e la caratterizzazione di alcuni personaggi, ma restituendo al genere dignità letteraria. E quindi vediamo in particolare in che modo il teatro goldoniano prese le distanze della commedia dell'arte, introducendo importanti aspetti innovativi. Vediamo insomma quali sono questi aspetti innovativi. Allora innanzitutto l'utilizzo del copione. Goldoni fu il primo a volere un testo interamente scritto per ogni attore. Prima di lui nella commedia dell'arte gli attori avevano solo una traccia da seguire, il cosiddetto canomaccio, e all'interno dei conflitti da essa delimitati improvvisavano le battute. Inoltre Goldoni introdusse la vita all'interno del teatro e le sue commedie rappresentano con freschezza e vivacità un mondo popolare, dove sono le classi umili e l'operosa borghesia a essere protagoniste. Fedele al principio secondo cui la natura è una e universale e sicura maestra a chi la osserva, la sua approfondita analisi del reale lo indusse a trarre innumerevoli spunti dal quotidiano e a portarli in scena. Dunque per dirla con Petronio è nel teatro goldoniano che, prima ancora che nei Promessi Sposi, il terzo stato italiano ha avuto la sua celebrazione. Inoltre Goldoni rifiutò i facili spedienti usati dagli scrittori barocchi e marinisti, i quali per stupire il pubblico ricorrevano a effetti speciali come l'introduzione in scena di macchine, intermezzi musicali, balletti, giochi acrobatici. Sostenne invece che ciò che più deliziava il pubblico era la semplicità e la naturalezza. Così scrisse nelle memorie, i miei compatrioti erano accostumati da lungo tempo alle farse triviali e agli spettacoli giganteschi. La mia versificazione non è mai stata di stil sublime, ma ecco appunto quel che bisognava ridurre a poco a poco nella ragione un pubblico accostumato alle iperboli, alle antitesi e al ridicolo gigantesco e romanzesco. Lasciò quindi che fossero delle improvvise pennellate di colore, delle battute particolarmente ficcanti o personaggi segnatamente vitali a destare l'interesse della platea. Inoltre le commedie di Goldoni mostrano un universo di valori positivi ai quali il pubblico poteva ispirarsi. Anche le umane debolezze sono messe in scena in modo da suscitare comprensione e quel tal direttevole solletico che nasce dall'aver riconosciuto come proprie le condotte rappresentate. Sostenitore poi del principio in virtù del quale è la vita a dover essere portata in teatro, Goldoni studiò in modo approfondito i caratteri degli attori, arrivando a ideare i personaggi in base alle peculiarità dell'artista che avrebbe dovuto portarli in scena. Scomparvero così i personaggi statici e convenzionali. E poi nel teatro goldoniano anche il linguaggio si pose al servizio della realtà portata in scena, non più quindi barocco ricercato ma popolare, schietto, immediato, dialettale. E infine nelle commedie è evidente la simpatia di Goldoni per il popolo e la borghesia, così come la sua presa di distanza dalla inoperosa aristocrazia. Sotto questo aspetto egli fu portavoce delle idee democratiche e umanitarie del suo tempo. E tra tutte le sue commedie sicuramente è la locandiera che rappresenta un esempio emblematico del teatro goldoniano. Mirandolina, la protagonista, è corteggiata senza speranza dal ricco conte di Alba Fiorita e dallo spietato marchese di Forlimpopoli. Un giorno arriva nella sua locanda il cavaliere di Ripa Fratta, che al contrario afferma di disprezzare le donne. La locandiera allora si ripromette di farlo innamorare di sé, e così avviene. Quando il cavaliere confessa il suo amore, Mirandolina lo rifiuta e annuncia le sue nozze con Fabrizio, il cameriere della locanda. La simpatia per la borghesia e le classi artigiane, insieme alla critica verso quelle nobiliari, non è comunicata attraverso toni eversivi o rivoluzionari. L'autore mantiene al contrario una posizione moderata, lontana dall'impegno nella lotta sociale. Scrive Petronio, Goldoni riesce meglio del suo grande contemporaneo, il Parini, a trovare, almeno nelle commedie in dialetto, un mezzo espressivo adatto al mondo borghese o popolare che rappresenta, alla mentalità nuova, borghese, moderatamente illuministica, di cui si fa portavoce. Un riferimento particolare nella descrizione della fisionomia goldoniana meritano infine i memoir. L'opera si presenta come un'accurata biografia nella quale, accanto al racconto delle vicende personali, confluiscono riflessioni e testimonianze sull'attività teatrale dello scrittore e sulla società del tempo. Iniziata nel 1784 e pubblicata in francese nell'87, è composta in tre parti. Nella prima, Goldoni racconta la sua vita fino al 48, l'anno in cui ritornò a Venezia. Nella seconda parte offre un quadro completo sul mondo del teatro e sui gusti del pubblico, intrecciandolo con il racconto della propria produzione fino alla partenza per Parigi venuta nel 1762. E infine la terza parte descrive il periodo francese ed è arricchita da riflessioni interessanti sul teatro e sulla vita di corte.